Il 12 e 13 giugno siamo chiamati alle urne per esprimere un'opinione anche sulla cosiddetta privatizzazione delle risorse idriche. I due quesiti, scheda rossa e scheda gialla, sono complessi e sulla questione non c'è accordo neanche tra le maggiori associazioni ambientaliste. WWF e Amici della Terra hanno infatti sulla questione opinioni opposte. La gestione delle acque da parte del pubblico negli ultimi anni si è rivelata del tutto insufficiente. Gli investimenti dello Stato nella rete idrica si sono infatti ridotti drasticamente negli ultimi 15 anni, dall'equivalente di 2 miliardi e mezzo di euro l'anno ad appena 700 milioni. Soldi che non bastano a rimettere in sesto quei 320 mila chilometri di tubature e colabrodo che attraversano l'Italia e producono una perdita di 47 litri di acqua per ogni 100 erogati. 47 è ovviamente una media che varia da nord a sud e i dati sono quelli dichiarati dal quotidiano scientifico online Galileo. Per il governo la soluzione è aprire totalmente le porte alla privatizzazione di tutti i servizi che riguardano l'ambito idrico, apertura già cominciata con la legge Galli 36 del 1994. La legge che accelera questo passaggio è il cosiddetto decreto Ronchi, legge 133 del 2008, che sarà effettiva dal 1 gennaio 2012. L'acqua e gli acquedotti resteranno pubblici, ma a gestirli sarà una società privata o mista pubblico-privata. Solo in determinati casi, cosiddetti inderoga, potrà essere una società pubblica. Questa legge però non è piaciuta a 1 milione e 400 mila persone che hanno chiesto un referendum abrogativo, convinti che i privati non siano per forza di cose più bravi a mettere i tappi nei buchi delle tubature e spaventati da un incontrollato aumento della bolletta. Il punto è, le logiche legittime del profitto possono sposarsi con quelle della conservazione e gestione di una risorsa primaria, vitale e sempre più scarsa come l'acqua? Per riparare la rete idrica italiana servono 60-70 miliardi di euro e chi chiede l'abrogazione della legge con il referendum sospetta che i privati possono aumentare il costo dell'acqua senza controlli. Oggi la bolletta costa in media 70 centesimi al giorno per famiglia, cioè meno di un caffè, che appoggia la privatizzazione dell'acqua sostiene che il profitto dei privati sarà comunque calmierato perché le tariffe le decidono i comuni in quanto proprietari del bene che danno in gestione. La domanda quindi è d'obbligo. I privati allora che ci guadagnano?